Dal 1981 e Barredo, in via Martiri della Resistenza 11, a Piacenza, opera nel settore tende da interno e da esterno avvalendosi delle ditte leader del mercato di riferimento. E Barredo pensa e propone la tenda non come semplice vestizione di una finestra, ma come valorizzazione e personalizzazione di un punto luce che diventa componente essenziale di arredo. Proponendosi con uno stile moderno e all'avanguardia, Eva Redo, col suo team di professionisti, è in grado di anticipare le tendenze, ponendosi come obiettivo la tua completa soddisfazione. Dopo un primo incontro imparerete immediatamente che Eva Redo è fiducia, credibilità e professionalità. in un mix di tradizione e modernità, suo punto di forza riconoscibile e sempre distinguibile. Entrando nel mondo Eva Redo, tu stesso capirai quante soluzioni potrai trovare e come ti sarà facile scegliere affidandoti a chi da sempre trova soluzioni adatte ad ogni tipo di ambiente, ricostruendo con un tessuto la personalità e l'atmosfera della tua casa. Niente sarà lasciato al caso, tutto ti sembrerà facile e risolvibile. Eva Redo non è solo vendita di un prodotto finito. Eva Redo è anche consulenza a domicilio, sartoria specializzata, montaggio e installazione. Eva Redo saprà accompagnarvi passo dopo passo dalla rilevazione delle misure alla posa in opera, proponendovi soluzioni altamente tecniche e moderne, ideali per ogni vostra esigenza. Eva Redo, tende di tendenza. Eva Redo, tende di tendenza.